Bomba ragazzi, ragazzi, io ho promesso una cosa a mio padre tra l'altro, ciao papà Abita al piano di sopra, abita semplicemente al piano di sopra Che la mia intro non l'avrei fatta a casa degli altri, quello come si dice Non più il lesto fan te fu, chi di virtù visse, visse, non vissupe Passato a remoto, quindi non mi sembra per caso Siamo tornati oggi in un nuovissimo video anche perché soprattutto ragazzi di vecchi video non se ne fanno più Ma come fai a fare un video vecchio? Puoi ricarichi, quindi noi che cosa facciamo? Siamo qui in compagnia di Maurizio che non diventa un vizio Grazie a tutti, ragazzi, lo conoscete, il primo video sul canale infatti è insieme a lui Queste informazioni potrebbero non essere vera, potrebbero aver mentito Tra l'altro voi non lo sapete, ma guardate una cosa Grazie Gra... Dai, dai che prima... Grazie Rana Rana Prego Prego Maurizio Maurizio Rikki 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 Rikki, tu fai Rikki Rikki, Rikki, Rikki Ecco, bravo Rikki Tra l'altro abbiamo realizzato anche una clip per che cosa Maurizio? Per un programma che si chiama Voice Anatomy che trovate sul Rai2 condotto da Pino Insegno Dove appunto si parla della voce e delle caratteristiche vocali di ognuno di noi Io dico adesso, vogliamo riprendere un po' questa cosa partendo dal presupposto e specificando E chiedendo umilmente scusa a tutti i logopedisti che ci seguono da casa Che sono tantissimi, mi scrivono ogni giorno Grazie, grazie, grazie Grazie, grazie, grazie Grazie Come potete vedere io inizio a marcare un po' di più la R La R E ancora sulla doppia non ci siamo E adesso lavoreremo un po' sulla doppia Facciamo qualche esercizio di doppia Qualche cosa per comunque tranquillizzare anche le persone che ci seguono da casa Perché tutti sognano ormai da di 6, 7, 8 anni a questa parte di vedermi Di sentirti dire la R Di sentirmi dire la R Comunque se vuoi dare anche un piccolo consiglio Quello che mi hai dato prima Essendo Family Friendly lo puoi dire comunque Se c'è un piccolo esercizio per dire la R per bene Ah, se siete maschi e avete la R moscia Un esercizio che può aiutarvi tanto è leccare tanta fica Ho detto dirmi la Family Friendly Ah, scusatemi Non l'hai fatto Però lo censureremo Solo la punta della lingua L L Tu fai R più avanti con la lingua Come quando dici grazie Grazie Esatto Prego 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 Grazie L L L L R R Non va a dirla nunca R R R Se sta sconfiando una notte L R R R Grazie Grazie Prego Prego Grazie Grazie Maurizio Grazie Maurizio Perché fai questo? Sei Ignazio la Russa Grazie Maurizio Prego Prego Rana 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 Grazie Rana Grazie Giovanni Rana Grazie Giovanni Rana Per i tortellini 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 Grazie Giovanni Rana Per i tortellini Grazie Giovanni Rana Grazie Prego Grazie Prego Grazie Giovanni Rana Prego Per i miei tortellini Sì Grazie Grazie Giovanni Rana Grazie per i miei tortellini Per i tuoi tortellini Per i tuoi tortellini Giovanni Grazie Prego Carlo Chiamalo Carlo Carlo Due tortellini Carlo 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 grazie L R di fila magari dai carlo carlo la lingua vibra e resta lì carlo la lingua mentre dici la r e la l consecutivi si ferma vibra si ferma e scende però vedi prima hai detto bene grazie per i tortellini grazie per i tortellini grazie per i tortellini grazie grazie prego per per i i tortellini 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 oh pizza mandolino tortellini no torna torna andando via una torta 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 torrta torta 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 ci sta avvenendo l'erra americana adesso stiamo cambiando paese tu ora sembra una cazzata Ma un minuto al giorno, due minuti al giorno Ti metti davanti allo specchio Sputerai sullo specchio per forza Perché tu vai Apri la bocca Questo ti aiuta a migliorare la muscolatura della lingua Mi sto decisando Alla 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 Tu dici altre tre volte e esplodi Ora fai Non buttare la lingua in avanti verso i denti Fai come stavi facendo adesso Ma metti più forza nella lingua Forza 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 R R R R Se tu stringi i denti e fai R Non può uscire Non può Serve lo spazio e il suono per uscire R R R R R R R R Grazie Grazie R Grazie Prego R Grazie Prego R Buono Avete sentito Grazie Prego R Ma si era stoppata Dall'investito Adoppiamo Però io direi adesso siccome di rendere un po' il tutto anche molto più goliatico di quanto questo già non sia stato Detti Ok prima eravamo di là che ne parlavamo Detto cazzo è vero Maurizio ne sa tantissimo Dai Quindi possiamo secondo me fare una gara di Detti Con la mia nuova R Nuova R R R R R 33 trentini entrarono trento tutti a 33 trotterellando 33 trentini entrarono in trento tutti a 33 trotterellando E' già detto meglio di rispetto altre volte Che sei detto grazie a lui No che grazie a lui Due ore che ti sto insegnando 33 trentini entrarono in trento tutti a 33 trotterellando Meraviglioso Voto 1 a 10 veloce Eh beh un 7 e mezzo Andiamo avanti Forse però pietro potrà proteggerci Forse però pietro potrà proteggerci 4 e mezzo Pensavo che l'abbia andato meglio Forse pietro potrà Forse 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 però Pietro potrà proteggerci Forse però pietro potrà proteggerci Questa è difficile già solo a dirla a chi ha la R Forse pietro Forse pietro però potrà proteggerci Prototeggerci Prototeggerci Prototeggici O tu pietro dall'alto dei cieli Pietro Forse però Forse però O tu fo Tu fo Toscano tu fo Toscano Quanto è mezzo questo? Quanto è mezzo questo è un po' scarsello Sopra la panca la capra campa Sotto la panca la capra crepa Sopra la panca la capra campa Sotto la panca la capra crepa La capa La capra La capra crepa Non la capa Sopra la panca la capra campa Sopra la panca la capra campa Sotto la capra la capra crepa No sotto la panca la capra crepa Sotto la panca la capra crepa Sopra la panca Sopra la panca Sopra la panca non sopra la campa E' sopra la panca che è la capra campa, e sotto la rampa... No, mi stai confondendo. La campa non è nulla. La campa non è niente. C'è solo quella piccola, che è la campanella. C'è la campanella che sta utilizzando. La campa da sola. Sopra la campa... No, e perché? Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Perfetto, l'hai detto. Non siamo qui a divertire. In un'ora e mezza, ma l'hai detto. Quattro. Troppi tentativi. Troppi tentativi, è vero, è vero. Però sulla pronuncia, sopra la campa... Andiamo avanti, vediamo qualche... non ce lo dickchiamo. Dai, te ne faccio uno toscano, va bene? Sì. Tito te, tutto il te ne te ne senti tanto. Anche in questione che tu te ne vuoi gas. Nel dubbio, questo va di te né. Tinto. Tito. Tito. Il nome proprio di persone. Tito. Tito. Tito te te ne felti... Tito. Te la scompongo. Tito. Tito. Te... Tito te... Tu te ne senti il tetto. Tu te ne senti il tetto. Te è il tito. Tito tu te ne senti il tetto. Ah. Tito tu te ne senti il tetto. Però? Non te ne senti tanto. Non te ne senti tanto. Quindi è Tito. E' tutto tarina di testo, però te tit 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 Quindi è. Tito, tu ti te tit 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 tit... No, non se ne intDe perché hai hai detto learn정 male Tito. Non ti chiami Tetto, più o meno. te chiami Tito Io ti ti fai i tui hai fretta? Non devi avere fretta Tito Tito? Aspetta un attimo Tito, te te tit 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 Ti faccio sul porto Tito. E' bene Non cioè non che non c'è il che perché appremmeno cambia il senso della frase Tito! Tito, tu te ti tinti il tetto. Tito, tu te ti tinti il tetto. Eh, però... Però... Di tette e di tinti? Di tette e di tinti? No, è anche un'altra cosa. Altra cosa. Di tette e di tinti? Di tette e di tinti, te intendi tanto. Eh. Quindi, Tito, son un po' tu qua, cioè... Eh, Tito, sei pesante. Sì, sì. Ma facciamo questo senza votazione. No, questa... No, questa... Commentate voi da casa. Commentate col voto. Inoltre ce ne sono ancora tanti. Ma dimmi tu una a me che dico io. Io ho una che sto dire benissimo, è... Tate e tigri contato. Tate e tigri. Ora la potrei dire meglio, Beato. Tate e tigri. Tate e tigri. Tate e tigri. Tate e tigri. Contro. Contato. Tre tigri. Tate e...no, tre. No, tre. Due, facciamo questo giro. Tigri. Due tigri combattono con due tigri. Devi anche il contro. Fai un R così. Due tigri combattono con... No, 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 ce l'hai... Due leoni. Due leoni combattono... Contato. No, cioè, contro non va bene. Due leoni... Si azzuffano. In una visca clandestina. Basta così. Ce n'è qualcun altro, facciamelo ancora un paio se ne abbiamo perché... Allora... Tu ce n'hai? Per esempio, a Napoli, quale potrebbe essere? Perché sempre Napoli? Come perché sempre Napoli? Perché essendo tu napoletano... Partenopeo. Partenopeo. A Napoli come si dice? Eccolo qua. Abbatesse e Pirevilesse. Veneta a Napoli. Abbatesse e Pirevilesse. Veneta a Napoli se andi a messa. Se votai Abbatesse e Napoli. Non faccia Abbatesse e Pirevilesse. Perché si venuta a Napoli se andi a messa. Perché i Pirevilesse non ci stanno a messa. Ah! Quindi Abatesse e Pirevilesse. Veneta a Napoli se andi a messa. Non faccia Abatesse e Pirevilesse. No! Dici se votai Abatesse e Napoli. Non faccia Abatesse e Pirevilesse. Perché si venuta a Napoli se andi a messa. Perché a Pirevilesse non ci stanno a messa. Eh! Eh! Bravo! Acquopo cupo poco pepe capo. E poco pepe capo acquopo. Acquopo cupo. Acquopo cupo. Acquopo cupo. Acquopo cupo. Acquopo cupo pepe capo. Che ha poco beb-gab идato Non fa una piega Eh no Attacco kurt e pure kurt dac E pure kurt dac attacco kurt E questo è simile Attacco kurt e pure kurt dac E pure kurt dac attacco kurt Ti hai ragione Ah questa è difficilissima però Indetta le cache, cascette e casciuna Sta ne tre lazio e la z lazio e la z1 Indetta le cache, cascette e casciuno Sta ne tre lazio e la z lazio e la z Questa è molto semplice Ah questa me la diceva mamma quando eri piccolo Ad...adnuchian Adnuchian Però c'è la U Eh dipende Ah è americano che gli oggi la A e il príncipe recagliazza viene personito a Napolare sukha' Tazza dürtai Napolare au pagliaci che a pagliaci non c'è una tazza il príncipe recagliazza va a Napolare sukha' Tazza Parapiglie Parapiglie, Parapiglie, parapiglie.. Parapiglie Parapiglie, pararapiglie pari Parapiglie Par tre casce , tre frezze, tre coconut e miles tre coco non gufanate tre frezze infrezzate tre casce, tre frezze, tre cofane e meals tre coco non gufanate una gran risultata Ciao, sembra… 99 posse siamo usciti da questo incubo siamo usciti da questo incubo grazie Maurizio grazie a te Simone e noi vi salutiamo vi invito a vedere anche il video che è uscito sul canale di Maurizio Merluzzo che ricordiamo che se arriva a un milione di iscritti prima del 31 dicembre mi mancano pochi lui farà la cosa quindi sempre a cercare di chiudere io ce l'ho la mia chiusa perché è standard chiudere come farebbe Papai Re fate sempre così per te grazie a tutti